3% un po' sesso palla dai 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 ancora un tempo da gioca no? no io non ho nessuna parte no no dai dai al giocatore che cazzo hai fatto il primo tempo dopo ci ha preso un gol ho anche selezionato il giocatore è bella perché ho preso il BB nuovo quello che porta il BB adesso lo porta pure lì è bella è bella oh come fa a tirare che mi sono messo davanti proprio schiacciando ho visto che stavo a partire eh no non lo so mai libero è passato sì perché guarda selezionato Fazio l'ho puntato verso di lui è stato un po' più rapido è Fazio che rapidità ah 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 a cadono da due no no ma ho tirato da prima perché ha fatto il controllo in più porca puttana ah 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 ah